Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Il video di oggi sarà un altro video fashion targato Shane Allora, prima di tutto vuol dire che questa volta c'è stata un po' di confusione su Shane Nel senso che ho fatto un ordine complessivo Ma mi è arrivato un pacchetto, tipo tre giorni dopo l'ordine, infatti ero un po' scioccata Con un vestito solo E poi dopo circa due settimane o poco meno Un altro pacco, sempre con lo stesso ordine di Shane Quindi adesso vi farò vedere bene nel dettaglio Innanzitutto ho pagato 57,50€ Risparmiando tipo una ventina di euro Perché il totale sarebbe dovuto essere 77,47€ Quindi direi di cominciare Tra parentesi mi vedete vestita come il video della settimana scorsa Perché in realtà li sto girando nello stesso momento Quindi se vi siete persi il video Come creare una base perfetta Ve lo lascio qui in alto Mentre il look che mi vedete indosso oggi È merito di un tutorial che vedete presto su Instagram E anche lì, se non mi seguite Vi lascio qui l'account Ma bando alle ciance Cominciamo subito Ok Stavo dicendo Ma cos'è questa cosa? Perché non me lo ricordavo esattamente di questo colore Diciamo che ho fatto un po' di shopping Anche sul primoverile estivo Ragion per cui Ho preso questo vestitino Che in questo momento è pieno di pieghe Ma secondo me sarà veramente carino Il vestito in questione è questo qua Esisteva in tre diverse tonalità Io ho preso questo azzurro E anziché di 16€ l'ho pagato 10,99€ Ovviamente io non sono la modella della foto E immaginatevi la gonna stirata per bene Devo dire che per 10,99€ Non è malaccio Ce lo vedo tanto in estate O comunque appena inizio a fare giornate un po' più carine E altezza poco sopra il ginocchio La gonna è una di quelle un po' svolazzanti E lo provo carissimo Quindi questo ho provato Sembra un po' da bambolina Voto per questo outfit Direi 9 Magari poi si possono mettere anche le spalline così Per un effetto un po' Bridgerton Quindi magari no Magari meglio così con lo scollo a barca Il tessuto è chiaramente molto molto leggero Ma nel complesso mi piace tanto Primo capo Promosso Poi ne ho messo tutto il resto in un'unica busta Già intravedo qualcosa che mi ero dimenticata Ovvero per esempio questi glitterini Da applicare magari per make up un po' più artistici Stile euforia per intenderci Vabbè poi ho preso dei collant Non so perché costavano poco Quindi non ha senso neanche che ve li faccia vedere La composizione è 85% nylon 15% spandex Magari vi faccio vedere giusto il colore Quello con lo carno sembra molto chiaro Quindi carino I collanti li ho pagati anche qui tipo 1,49 euro Quindi perché no Visto che si bugono una volta che li metti Quindi facciamo scorta Molto carini Velati Niente di che Così ad impatto direi che anche Un caruccio 6-7 Per quello che costa Non già se lo meritano a prescindere Cosa sono questi? Questo qui è un ombretto in crema di Shiglam Diciamo che è un all fashion E beauty Non mi ricordavo di aver preso in realtà Vedo già anche qualcos'altro Tutte queste cose di Shiglam Sinceramente Se riesco ad aprirlo magari Vabbè nel frattempo vi dico che Se non siete ancora iscritti al canale È giunto il momento di farlo Questo qui L'ho pagato 3,45 euro Wow È pazzesco È riflessi tipo verdi e blu Da lì non rende in telecamera No, non ci credo Vi faccio una swatch Ok È proprio tipo impasta È gelatinoso È riflessi azzurri, blu e verdi Wow Ci piace Vediamo così nel frattempo Se si asciuga Oppure rimane Un po' così umiliccio Tra l'altro Hanno una leggera base Quindi effettivamente Non rilascia proprio Una base colore intensa Ma si può applicare anche giusto Per i glitter Come in questo caso Esageriamo tanto Per stare in casa C'è anche un altro Ombretto glitter Che è andato in realtà Virale sui social Anche qua Pec esterno Questo è un po' più semplice Da aprire Ah Questo è addirittura La protezione E secondo me È addirittura Più pazzesco dell'altro Da qui non si percepisce Praticamente Questo ombretto È particolare Ok E sì Sempre in jelly E una volta applicato Lo sto mettendo qui Accanto a quello Di poco fa E dà questi riflessi Lilla blu Solo se lo colpisce la luce Ed è tipo Pazzesco Fatemi sapere nei commenti Per il momento Quale dei due preferite Io sono già innamorata E aspettatevi Tanti make up Di questo tipo Già ve lo spoilero Ma sì Mi schiamo È ancora più bello In tutto ciò Per me Per il momento Questi due prodotti Come prima impressione Sono un 10 e lode Ovviamente Dobbiamo vedere un po' Come è la durata Nel frattempo Con le poche dita Che mi rimangono pulite Posso dirvi che Il primo Si è Completamente asciugato Il secondo In questo momento Si sta asciugando Ma penso che Una volta asciugati Appunto Non vengano più via È giusto per completare La sessione beauty Andiamo con il Jelly Wow Invece Un semplicissimo Lip oil Idratante Con fragranza Se non erro Cocco Che ho pagato 2,95 euro In poche parole Lì c'è Lipo Idratante Ma la consistenza È quella di un gloss E adora tantissimo Di cocco È buonissimo Su questo Vi farò sapere Non lo utilizzo adesso Perché sennò Diventerebbe Praticamente Marrone Oddio Non pensavo Di questo colore Ma io amo il senape Quindi va bene Praticamente Questi Li ho visti Solo nel momento In cui stavo Per chiudere il carrello E me li dava in offerta A 6,42 euro Anziché 13 euro In realtà qua Adesso dice 11 Ma io se volete Li ho pagati meno Proviamoli E nel frattempo Direi di Provare anche lei Che non era pensata Per essere utilizzata Con questo pantalone Ma ce la faremo Andare bene Questo è il secondo outfit La misura del pantalone Devo dire che va bene Ed è una 38 La maglia Perfetta Presenta qua Questo ricano L'ho inserito All'interno del pantalone E effettivamente Mi piace anche L'abbinamento Volevo provare Anche questi occhiali Che ho comprato Che arrivano anche Nella custodia Quindi fantastico Io ho un problema Con gli occhiali Non me ne sta bene Nessuno Quindi Speriamo nella sorte Sono un po' Giganti Allora In realtà Gli occhiali Mi piacciono molto Volevo proprio Questa forma Un po' Acchi di gatto La magliettina La cercavo Esattamente così Al di fuori Del pantalone E così Un po' Più lenta Il tessuto È davvero carinissimo E il pantalone Appunto Per quello Che l'ho pagato In saldo Anche questo Fantastico Vuoti Dieci Li adoro E sono arrivati Anche con la custodia Quindi fantastico Stessa cosa Maglietta Pantalone Direi un In realtà Più un sette Perché non mi fa Impazzire tanto La forma In generale Il taglio del pantalone Sono innamorata Di questi occhiali Li volevo Esattamente così Adoro E li ho pagati 3 euro Quindi Il suo 10 È ancora più meritato Rispettivamente Questa canotta L'ho pagata 5 euro E 91 Il pantalone Come vi dicevo 6 euro e 42 E gli occhiali Solo 3 euro e 20 Essendo che mi piacciono Così tanto Potrei anche perderli Graffiarli Romperli Ma per 3 euro e 21 Me li ricomprerei All'infinito Sinceramente Questo È tipo Un mini portafoglio Che ho pagato 2 euro e 46 Io lo utilizzo Spesso perché Ho sempre le borsette Quelle piccoline E quindi Me ne serviva Uno più nuovo Di quello che ho Che si è rovinato All'interno Qui ha lo spazio Per inserire Le carte I contanti Qui volendo Anche una piccola fotografia Ed è così Con il bottoncino C'era di infiniti colori E anche trame E l'ho preso così In nero Con questo trame Un po' Coccodrillo Un po' Un po' Trash Però è carino Mi piace Voto complessivo 7 Che carine Praticamente sono esaltata Perché Mia cognata Mi aveva taggata In una foto Di una bambina Con delle fascette Carnissime Per i capelli E io ho trovato Queste qua Su Shane E le amo Sono carinissime Allora Devo dire che Sono un po' Tipo Svilacciate In alcuni punti Ma il tessuto Secondo me Tagliando qualche filo Che pende Sono un amore E penso si possano Pure regolare Fare più piccole O più larghe Infatti Quella bianca Sembra un pochino Più piccola Rispetto a questa rosa E sono per la mia Nipotina Ginevrina Carinissime Voto 8 Solo perché Ci sono dei filaccetti Quella Ma sono tenerissime Per finire Ah vabbè Per finire Le solite cavolate Che prendo io Ovvero Un porta stuzzicadenti In plastica Ma semplicemente Perché magari Quando si mettono A tavola Degli stuzzicini Che hanno bisogno Di stuzzicadenti E' terribile La scatolina Delle stuzzicadenti Quindi pensavo Che così fosse Un po' più carino Da presentare Siamo quasi Giunti al termine Con Questa qui Che è una banalissima T-shirt monocolore Che in realtà Ho pensato Per il lavoro Pagata solo A 4,91 euro Secondo me Sta benissimo Con un jeans Anche qui Magari all'interno Di un jeans Come questo Molto a vita alta Un po' blusata Ce la vedo Benissimo Per il lavoro Ho bisogno Di magliette Di questo tipo Monocolore Con colori neutri E quindi Fantastica Ti faccio vedere Con questi occhiali A casa Semplice Easy Ovviamente Anche qui Da stirare Come voto Direi Un onestissimo 8 Perché non ha nulla Nulla di male È carinissima Per finire Con l'ultimo Articolo Il pezzo Forte di tutto Ovvero Quello che mi è arrivato In tre giorni In separata sede E' arrivato Solo questo pacchettino Esattamente così E ho detto Ma che senso Cioè Dov'è il resto Del mio ordine Praticamente È un vestito Color oliva Che sta benissimo Con il mio make up Prima che facessi Tutto questa Maradam E praticamente Costava 14 euro Io l'ho beccato A 6,49 euro Quindi mi sono detta Ma per 6,49 euro Se è bello Come indosso Alla modella Fantastico Quindi Ancora non l'ho provato Vediamo in diretta Questo disastro Perché già me lo sento Allora Vi dirò In realtà Contro ogni mia aspettativa Veste bene Io sono Abbastanza sconvolta Il tessuto ovviamente È assolutamente Da stirare Provo a fare un cambio Di postazione Per vedere Se riuscite a capire meglio Come ho fatto il vestito Qui ha questo scollo Un po' particolare Che si può Diciamo Modificare a piacimento Al lato Qui c'è La cerniera E partono Tutti questi drappeggi Sia qui Che sul retro E questa è praticamente La sua lunghezza Devo dire Anche qua Mi aspettavo Molto peggio Sinceramente Se mi immagino Il tutto Stirato per bene Con i giusti accessori Con il giusto Make up Secondo me È sfruttabile Anche per un'occasione Un po' più formale Ricordiamoci Solo 6 euro Beh che dire Allora Credo sia stato in assoluto Uno degli shopping Di Shane Più belli Che io abbia mai fatto Vi lascio Tutti i link Giù nell'info box Se volete anche voi Dare un'occhiata Più da vicino A quello che ho acquistato Fatemi assolutamente Sapere Cosa avete pensato Di questo shopping E cosa avete preferito Di questo haul Io sono soddisfattissima E vi ricordo Che non costa nulla Cliccare il tastino rosso Quaggiù Iscriviti E lasciare un pollice in su Vi mando Un bacione gigante Noi ci vediamo Nei prossimi video Ciao Ciao